Ciao cari amici, in questi giorni si parla molto del fatto che dall'Ucraina arrivano poche notizie perché ovviamente l'attenzione si è spostata su ciò che succede in Medio Oriente, in particolare sulla guerra che sta diventando sempre più violenta tra Israele, tra l'amministrazione israeliana e palestinesi, tra Hamas e diciamocela anche tra collettivo mondo islamico perché noi vediamo come giorno dopo giorno vengono coinvolti in questa terribile situazione anche altri paesi islamici comunque la situazione in Ucraina anche se non è più così approfondita dai media occidentali forse anche per fortuna perché raccontavano solo le bagianate su ciò che stava accadendo comunque anche se non appare più l'Ucraina sulle prime pagine dei giornali se i nostri giornalisti non dedicano più così tanta attenzione a quello che succede nel paese governato da Zelensky quindi noi comunque continuiamo a seguire quello che sta accadendo lì io sul mio canale privato Telegram sempre pubblico ogni mattina quelli che sono i resoconti delle giornate passate le notizie più importanti, i video, i materiali che raccontano ciò che accade veramente in prima linea non magari le opinioni di vari opinionisti intellettuali oppure varie varianti di qualche giornalista schierato ma realtà oggettiva su ciò che sta accadendo realmente e io già da un po' di tempo vi raccontavo che con l'inizio della guerra in Israele con mancata l'attenzione da parte della comunità occidentale su quello che sta accadendo in Ucraina i russi hanno iniziato lentamente con attenzione ma in modo abbastanza dinamico di cambiare l'intensità della guerra intanto loro sono stati molto organizzati nel creare un unico fronte cioè adesso tutte quelle forze che loro chiamano forze sud, centro, est, ovest ormai agiscono in un'unica strategia se prima sembrava che ognuno ha il suo punto di comando a volte sembrava che tra loro non interagivano adesso è molto chiaro che la strategia unificata, comune, c'è e quindi queste forze stanno agendo tutti insieme in sincronia stanno cercando, come dicevo anche in precedenza, di impegnarsi al massimo per raddrizzare la linea e dopodiché è già chiaro che si stanno preparando per un'offensiva in alcune zone stanno già conducendo un'offensiva quindi si parla chiaramente di operazioni molto efficaci in alcune zone hanno già preso le posizioni favorevoli dei quali iniziano a bombardare l'esercito ucraino utilizzando l'artilleria hanno intensificato anche altri tipi di bombardamenti e proprio questa notte i russi hanno fatto un'operazione molto importante della quale ovviamente non si è parlato nei nostri media occidentali i nostri vari specialisti non hanno approfondito questa situazione anche se si tratta di una situazione molto importante, rilevante che per l'esercito ucraino è risultata molto dannosa in pratica stanotte, alle 2 di notte i russi hanno colpito con tre potentissimi bombardamenti missilistici il territorio di una base militare che si trova a Zaporogie in città di Zaporogie nella periferia, nella zona di Via Weinstroi dove si trova la quindicesima brigata ucraina questa brigata si chiama di destinazione operativa NSU di numero 3029 e io tra l'altro nel mio canale privato Telegram ho condiviso anche il video e foto di pianificazione di questo territorio, di questa brigata, di questa base con esatti punti di obiettivi che sono stati colpiti dai missili russi ci sono anche le coordinate chi vuole può abbonarsi al mio canale Telegram il link per l'abbonamento si trova nella descrizione di questo video può andare tranquillamente e verificare tutta questa situazione trovare dove si trova precisamente questo luogo questa brigata perché questa brigata è così importante perché questi colpi missilistici sono stati così fatali per l'esercito ucraino perché adesso in Ucraina diciamo i militari sono sotto shock perché si tratta di un importantissimo luogo di concentrazione delle forze d'elite sono riparti militari d'elite dell'esercito ucraino tra i quali ovviamente ci sono moltissimi mercenari stranieri lì si tratta di riparti militari dei gruppi mercenari ma anche effettivi della NATO gli ufficiali della NATO quelli che stanno coordinando le operazioni speciali dell'esercito ucraino in tutta la direzione di Ariechovske dove adesso ci sono aspri combattimenti dove i russi cercano di avanzare e prendere nel proprio dominio i territori le zone favorevoli ci sono forze speciali c'è il nono reggimento ad esempio che è stata la base sulla quale fu creata questa unità questa quindicesima brigata di destinazione operativa è una brigata speciale sono forze speciali e questo non nono reggimento delle forze speciali che loro hanno creato CETAC e ovviamente tutta questa creazione è statunitense a partire dal nome se voi andate a vedere nelle risorse ucraine come sono addestrati come sono preparati chi sono all'interno di queste unità si capisce che questa è un'unità creata dal Pentagono quindi è un fiore all'occhiello dell'esercito ucraino loro in quella base stavano accogliendo i nuovi riservisti che arrivavano dalla vita civile questi riservisti venivano in 448 addestrati purtroppo adesso come sapete l'esercito ucraino si trova in difficoltà perché mancano gli uomini perché Zelensky e la sua cricca hanno portato al massacro più di mezzo milione dei cittadini ucraini loro erano da sempre numericamente superiori ai russi quindi i russi essendo in minoranza numerica però comunque hanno dalla parte loro la tecnologia le armi e la preparazione come hanno detto anche i nostri giornali occidentali hanno le pale e con questi pale evidentemente i russi li hanno massacrati praticamente tutti tanto che adesso nel territorio di questa brigata nel questo ex nono reggimento di forza speciale creato da Pentagono che poi si è stato trasformato nella quindicesima brigata voi sapete cosa succede quando un reggimento viene trasformato in una brigata non so se qualcuno di voi qua comprende il senso di questa cosa quando un reggimento viene trasformato in una brigata si tratta di un degrado una situazione in cui un reparto militare grande viene diminuito e se viene diminuito vuol dire che non ha abbastanza risorse per mantenere la grandezza della propria struttura precedente quindi in grande linee la storia di questa di questa unità era tale gli americani hanno creato un reggimento di forze speciali questo reggimento dopo un po' di tempo di combattimenti è stato praticamente massacrato gli ucraini non sono stati in grado di mantenere la struttura del reggimento l'hanno trasformato nella quindicesima brigata ovviamente mantenendo cercando di mantenere il nucleo di quei specialisti che potevano e possono ancora preparare i giovani i militari i riservisti che vengono catturati per strade dell'Ucraina e mandati in prima linea solo che adesso i russi con questi colpi missilistici hanno fatto un grave danno anche a quel poco che è rimasto di questa quindicesima brigata per cui è molto importante ciò che è avvenuto stanotte non ci raccontano non dicono niente i nostri media ci mancherebbe se avrebbero se dicevano qualcosa questi ovviamente mantengono un'altra linea un'altra linea narrativa propagandistica e così via non parliamo neanche comunque è molto importante questo colpo perché è uno degli esempi che adesso in questo periodo i russi usano attivamente l'artilleria i missili le bombe guidate FAB 500 1000 1500 con i moduli UMPK che sono moduli plananti autonomi che servono per dare maggiore precisione le bombe per permettere alle bombe di caduta libera di essere trasformati nei moduli plananti che riescono a percorrere fino a 70 km nell'aria insomma colpendo un punto con precisione fino a 5 metri quindi questa è l'ennesima conferma che i russi stanno andando avanti con la distruzione sistematica del complesso militare ucraino ovviamente è una cosa molto triste triste soprattutto per gli ucraini triste anche per chi sostiene l'Ucraina e in questo caso si tratta di un grave danno a tutto gruppo tattico che si trova nella direzione di Arekowski quindi io penso che da qui più avanti sentiremo delle notizie molto interessanti da quella direzione proprio perché senza appoggio di unità speciali che partivano da questa quindicesima brigata ex nono reggimento delle forze speciali l'esercito ucraino farà molte difficoltà di mantenere le loro posizioni in quella zona di fronte quindi stiamo attenti osserviamo ciò che sta succedendo se vi servono maggiori informazioni se volete vedere le mappe approfondimenti se volete capire cosa sta succedendo io vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram lì condivido tutta l'informazione senza alcun tipo di limite senza la censura in differenza ciò che sta succedendo purtroppo sui canali di nostra propaganda occidentale e io vi invito di fare abbonamento il link per l'abbonamento troverete nella descrizione di questo video se volete sostenermi qua su youtube vi invito di iscrivervi al mio canale youtube condividere i miei video con i vostri amici commentare i miei video vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio è un libro in cui io racconto le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio vi voglio bene